Iupole è un progetto che per i giovani va benissimo perché unisce la tecnologia e la utilizza per creare un rapporto sempre più stretto, una collaborazione sempre più stretta con le forze dell'ordine. Ci sarà la possibilità concreta di segnalare quello che succede magari anche a scuola e che altrimenti non avresti il coraggio di raccontare. Un'app della Polizia di Stato scaricabile gratuitamente che consente ai giovani di poter segnalare episodi di spaccio, di consumo di sostanze stupevescenti e soprattutto episodi di bullismo. Li metterà direttamente in contatto con la sala operativa della Questura e permetterà di comunicare con la Polizia di Stato anche in forma assolutamente anonima. Questo significa che il ragazzo attraverso l'utilizzo di quest'app potrà anche raccontare di un proprio disagio e poi far scattare eventualmente il passaggio successivo. Potrà comunicare che è già una formula vincente per questo tipo di fenomeni, potrà essere protagonista di segnalazioni e non spettatore di episodi sicuramente deprecabili. Voi avete sempre un impegno in questo senso, ci sono molte occasioni in cui gli incontri sono fisici, ci raccontate il vostro lavoro, raccontate la legalità e la raccontate con il linguaggio, quello giusto, quello semplice, quello che non deve far pensare all'autorità ma a una persona vera che può aiutarli. Il linguaggio dei giovani, il linguaggio delle app, degli smartphone, delle immagini, prossimamente con l'Upol anche dei video, per un rapporto sempre più stretto e sempre più collaborativo. Oggi la presentazione è qui al liceo Corbino, ci sono altre tappe previste per altre scuole magari? Sicuramente continueremo con questa campagna di diffusione di questa app Upol della Polizia di Stato per tutto l'anno e anche per l'anno a seguire in tutte le scuole affinché diventi uno strumento di comunicazione il più diffuso possibile che ci aiuterà a intervenire nelle migliori dei modi per situazioni di spaccio, di consumo e di bullismo. È già operativo? È già operativo e sta già cominciando a dare i primi risultati. E gli insegnanti avranno una funzione in tutto questo? Gli insegnanti come sempre possono essere divulgatori di questo progetto, possono consigliare e possono, come è nella loro più stretta funzione, consigliare gli alunni nel segnalare immediatamente situazioni di rilievo. I giovani hanno tanto da dire e a volte non riescono a dirlo per una serie di ragioni più o meno giuste ma che sono legate all'età. Un'app come quella che viene presentata oggi può essere un valido aiuto in questo senso? Sì, perché praticamente l'app che viene oggi presentata, Youpol, penso sia per un nobilissimo fine che è quello realmente di poter denunciare ma anche comunicare quello che è un disagio determinato da tutte quelle situazioni che si possono creare all'interno o all'esterno della scuola ma anche all'interno delle pareti domestiche. E proprio per questo la nostra scuola è sempre felice di accogliere questo tipo di iniziative perché noi sentiamo molto ciò che accade attorno ai ragazzi e tante volte non riusciamo ad intervenire in modo efficace. Quindi il fare in rete, avere la collaborazione delle istituzioni, per noi sistema scuola è fondamentale. Tra l'altro attraverso quello che per loro nel bene e nel male è lo strumento principe, quello che a volte li aliena, anzi molto spesso li aliena, in questo caso invece può essere utile. Esatto, anche questo è un qualcosa che dovrebbe rientrare in quella che è la formazione, cioè capire l'uso corretto del telefono o di tutti quei mezzi di comunicazione di massa. Una volta si parlava della televisione che era un mezzo alienante, adesso il telefonino o lo smartphone o il tablet diventano degli strumenti che se non usati nel modo giusto possono determinare anche delle dipendenze. Perché oggi si parla sempre più di dipendenze ma anche cadere in tranelli importanti, vedi la pedofilia fatta online e così via dicendo. Quindi una formazione sempre più approfondita sia per noi adulti sia per i giovani per un uso corretto di tutti questi strumenti.